La mia domanda è la seguente, come può affrontare secondo lei il pagamento di un mutuo, ma anche semplicemente creare una famiglia, una giovane coppia di fronte al precariato sul lavoro? Intanto bisognerebbe che nella giovane coppia, questo è il consiglio che da padre mi permetto di dare a lei, dovrebbe cercarsi magari un figlio di Berlusconi o di qualcun altro che non avesse di questi problemi, questo lei col sorriso che ha potrebbe anche permetterselo. E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazzo che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, i naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro, stringi i pugni ragazzo, non lasciargli la pinta neanche un momento. Opri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello, a volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle mie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole, o non vive più. Sogna ragazzo, sogna non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu.